Questa sera il mio tavolo è il 34, sul segnatavolo è scritto in lettere, ma la siepe non c'è più. La siepe finta, che credeva di essere davvero una siepe, non c'è più, e nemmeno la sua ombra, l'ombra vera che sapeva di essere l'ombra di una siepe finta, ma faceva finta di non sapere. Si è bruciata al sole, cotta, si è sbriciolata tutta, così mi han detto, anche le siepi finte muoiono. Ma muoiono per finta? Oppure è morta per davvero perché nessuno la innaffiava, nemmeno per finta? Perché lei credeva di essere una siepe vera, però l'ombra era vera, io l'ho vista. Ora al suo posto c'è una tenda verde, rettangolare, più pratica, una vera tenda. Lei non si cuoce, si smonta, si lava, si stira e si rimonta. Lei, la tenda, non ha l'ombra. Lei fa l'ombra. Non come la siepe finta, che credeva di essere una siepe vera e per finta aveva un'ombra vera. Già, gli idealisti fanno sempre una brutta fine.